Operativi. Serve il codice per disattivare il lancio missilistico presto. Prova con 41752. Non va! Scusa, questo è il codice della mia carta. Lo ripeto sempre per non dimenticarlo. Cancella. Non farti prendere dal panico. Con Intesa San Paolo puoi personalizzare il PIN della tua next card quando vuoi. Missione compiuta. Chiamiamo il capo, dammi il numero. 4175... E' sempre il codice... Vabbè, cancella. Con Intesa San Paolo puoi personalizzare il PIN della tua next card quando vuoi. Missione compiuta. Chiamiamo il capo, dammi il numero. 4175... E... Non va! Ah, scusa, questo è il codice... Operativi. Serve il codice per disattivare il lancio missilistico presto. Prova con 417 della mia carta. Lo ripeto sempre per non dimenticarlo. Cancella. Non farti prendere dal panico.